Oggi facciamo delle patate appassate. Oggi facciamo delle patate appassate. O no. Perché? Oggi facciamo delle patate appassate. No. Mettete giù una ciotola le patate tagliate a pizzo. Poi mettete giù. E poi le ho coprite con l'acqua. Lasciatelo così per 10 minuti. Adesso mettiamo la sabbia. Adesso mettiamola bene. Facciamo la papica. Adesso mettiamola bene. Facciamo la papica. Adesso mettiamo l'olio. Adesso mettiamo l'olio. Abbiamo fatto le patate di rete secco. E mangiamo. Corte. 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 E' buona amica. E' buona amica. Grazie a tutti.